Nonostante la minaccia di piogge, forlivesi hanno riempito Piazzale della Vittoria per il passaggio del Giro d'Italia. Forlì è stata sede del secondo traguardo volante di tappa dopo i 162 chilometri percorsi. Un passaggio veloce, ma sempre intriso di emozioni. Così, attorno alle 16, i cittadini hanno potuto applaudire i ciclisti della carovana rosa. E' una bella cosa vedere passare sempre da Forlì il Giro. Io l'ho visto tante volte, sono un appassionato e mi piace. Cosa si aspetta da questo Giro, visto che è un appassionato? Avrei avuto piacere che lo vincesse un italiano, ma vedo che sono un po' in difficoltà, è difficile. Una bella esperienza e poi passa dalle nostre terre. Si respira la tensione, oggi sono tranquilli, sono cinque in fuga, ho visto. Sono venuto a posto per venirlo a vedere, io sono sempre stato un appassionato di ciclismo, andavo in bicicletta, adesso purtroppo in base alla mia età mai ho smesso. E' sempre un grande spettacolo, veramente una grande tradizione. Siamo venuti perché è una bella giornata di sport e non vediamo l'ora di vedere sfrecciare questi grandissimi campioni qui da Forlì. Siamo venuti per l'ora di vedere sfrecciare questi grandissimi campioni qui da Forlì.